Di diritto e di rovescio, la rassegna annuale proposta dalla consulta femminile regionale torna anche quest'anno per tre martedì alle 21 al Cinema Romano di Torino con tre film italiani. Le proiezioni sono inviti da ritirare presso la seda Iace in Galleria Subalpina 30. I tre film sono Il Mio Domani, proiettato il 5 novembre, Il Primo In Carico, il 12, e Viaggio Sola, il 26 novembre.